Ben ritrovati con le interviste di SPS Italia 2016, siamo in compagnia di Andrea Tomasella, amministratore delegato di Panasonic Electric Wars Italia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno ingegnere. Capiamo subito il valore per un'azienda grande come la vostra, per una realtà grande come la vostra di partecipare ad SPS Italia. SPS Italia è nata nel 2011, per voler ovviamente di Messe Frankfurt, ma subito con la stretta collaborazione di un pool di aziende, tra cui la nostra, che ha creduto fin dall'inizio nel fare gruppo e nel promuovere la propria immagine e i propri valori sul mercato italiano. In questi anni il mercato dell'automazione si è molto evoluto, parliamo dal 2011 ad oggi, per cui subito dopo gli anni della crisi. Direi che l'automazione è maturata, noi aziende, fornitrici, siamo maturati, i nostri clienti sono maturati e tutto il mondo dell'automazione ne ha beneficiato. Quindi abbiamo una maggiore consapevolezza, possiamo dire. Sicuramente. SPS Italia ha contribuito a portare il suo tassello, il suo mattoncino in tutto questo. Per Panasonic, concretamente, l'industria 4.0, che cosa significa? È ancora un obiettivo da raggiungere o inizia già ad essere una realtà? Bisogna un attimino distinguere quello che pensa Panasonic come gruppo, come organizzazione internazionale e quello che fa in concreto Panasonic Italia. Direi che come gruppo Panasonic è molto attenta, perché comunque l'industria 4.0 è quello che noi chiamiamo un megatrend, che in qualche modo è guidato dal tema della connettività. La connettività è pervasiva nelle nostre vite quotidiane e lo sarà a breve anche nell'industria. Quindi Panasonic sicuramente è un player che sta attento a questo trend e che sta già giocando su questo mercato. Noi come Panasonic Italia ci accontentiamo di declinarla nel concreto, come d'altro canto si fa qui in fiera con il know-how 4.0. Quindi declinarla nel concreto, tant'è vero che abbiamo dei prodotti che già implementano queste tecnologie, questa connettività e che sono la risposta concreta a quello che i nostri clienti chiedono. Come ci ricordava la vostra è una realtà internazionale. Se quindi volessimo fare un paragone tra lo stato dell'arte in Italia e invece le altre sede anche europee in primo piano, a che punto siamo secondo lei? Direi che l'Italia non ha nulla da imparare perché siamo tra le prime cinque nazioni al mondo come nell'industria dell'automazione. Sto parlando dei nostri clienti ovviamente, non di Panasonic. Quindi giochiamo nel mercato globale, abbiamo le nostre carte. È chiaro che l'Italia forse deve trarre spunto da chi può fare meglio di noi nel creare massa critica, nel procedurare meglio l'organizzazione e questo è lo scatto in più che dobbiamo fare. L'Italia come paese invece ha qualche passo in più da fare rispetto a quello che è il mondo dell'automazione perché il sistema Italia è ancora stenta ad affermarsi come meritiamo sul mercato globale. E qui ritorna forse prioritario anche all'interno di questa edizione la grande novità che è quella della mostra del know-how 4.0, dunque una formazione, una cultura di quello che è l'industria 4.0 e quindi anche il mondo dell'automazione che va implementato. La domanda è a questo punto, nel mercato del lavoro, per voi, nelle vostre scelte concrete, quanto impatta? Ma questa è un'eterna diatriba tra automazione e occupazione. Direi che dobbiamo valutare quelli che sono gli aspetti positivi di tutto questo anche perché il mondo si è sempre evoluto e le evoluzioni che abbiamo di fronte a noi sono inevitabili e nessuno è in grado di arrestarle e quindi bisogna prendere quello che c'è di buono in tutto questo. Qualche giorno fa, il Sole 24 Ore, citava una ricerca del Boston Consulting Group in cui si prevedeva solo per la Germania un aumento degli occupati di 400.000 persone e un contributo all'incremento del PIL dell'1,1%. Questo è l'aspetto positivo della medaglia e anche l'Italia deve per forza di cose intercettare questo trend. L'aspetto negativo che mi preoccupa, ma non è più dal punto di vista personale e direi anche politico, è che siamo in un mondo sempre più bipolarizzato, i ricchi e i poveri, i tecnologici e i non tecnologici. Quindi è importante, ma soprattutto dal punto di vista politico, non è tanto un ruolo noi di operatori nel mondo dell'automazione, fare in modo che non ci sia una parte dell'umanità che resta indietro. Quindi concretamente state cercando nuove skills né in coloro che andate ad esaminare. Cioè i giovani devono avere nuove capacità per essere affascinanti ai vostri occhi per dunque entrare nel mercato del lavoro? I giovani sono affascinanti per definizione, perché comunque sono diversi, sono freschi, portano qualcosa di nuovo. Non è nulla di scontato perché il mercato del lavoro è davvero molto difficile, soprattutto per i giovani in questa fase. Sicuramente, questo è un problema. sta di fatto che dobbiamo trovare modo di dare spazio ai giovani, perché queste nuove tecnologie sono comprese molto meglio dai giovani rispetto alle nostre generazioni. E sono più interessanti, ad esempio, professionalità come informatici, ingegneri? Quali sono quelle che sono più utili appunto a Panasonic stessa? A noi interessano prevalentemente ingegneri e informatici, sicuramente. E una formazione anche dal punto di vista dell'automazione. Anni fa non esisteva una formazione specifica per l'automazione, mentre oggigiorno l'ingegneri dell'automazione è una figura specifica. La ringrazio per essere stato con noi, per averci lasciato questi spunti di riflessione. Grazie all'ingegner Andrea Tomasella, amministratore delegato di Panasonic Electric Works Italia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi per questa opportunità. È tutto per questa intervista. Grazie.